il paralungo non finiva più la stabilità tira a piedi il clima chiuda giù più forte il caldo è sterrato ma quello che vuoi allora no e ben tenute proprio la madonna tutto sterrato ci sa il colore così alla casa non proprio come abbiamo fatto l'altro giorno eh no adesso lì non va bene se lì c'è il clima adesso va lui s видurali quarta fia 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 Sì aia eh? chiamo questa? è l'ocompo di No, no, e di affidiremo a due, poco, e di affidiremo a due. Ciao! 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 ...d'accordo... mi piace ma scendo e qui ci passano verso ma se svegliamo giù da lì sono cazzo pulita è delle zone che c'è 20 centimetri di foglie ma adesso l'acqua io mi ho passata ma anche se sono proprio un coglione io non do beffi adesso ma che dire che ho già messo due dito e da solo non ne faccio più ah vuoi passare di qua se non ricordo non so eh sei? eh noi siamo andati a aprire le fontane ieri quella che ho messo prima di qua di qua era a destra però lì ho sbagliato lì che ne so non sono sicuro a sinistra lì però che è quella che ho visto io siamo giù nella prima siamo partiti così a ronco e vogliamo finire qua che... con queste belle radici per straverso eh? eh perché non mi ricordo più il cazzo sì sì ok adesso dobbiamo... c'è una passarella c'è una vecchia fabbrica questo qui dovrebbe essere usulgere di una vecchia fabbrica che è diventata... è anche qua però ah la messa proprio... non è... qua nel orto non è... 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 non è...